e le carognari e l'fc bigotti questo sabato mattina ha soleggiato speriamo che sia un gran match 8 a desena ex di turno incredibile quando meno ce lo si aspettava il vantaggio dell'fc bigotti con cerciello e c'è il gol dell'uno a zero ciampaglia palla in mezzo a deviazione ma ciampaglia la parata clamorosa di jengo poi di bonito per ciampaglia con il destro alta ciampaglia ancora super jengo vola andare salernitano allarga per ciampaglia palla per l'altro jengo poi ancora salernitano ciampaglia deviazione palla fuori il parigi il parigi il parigi l carognari non può nulla salernitano con il testo jengo ma che partita sta facendo jengo la media sono 15 video a settimana considerando eventuali partite del venerdì con il pozzia paradina mamma mia jengo metti la traccia leva la traccia che finché erano pochi video mo che si è estesa la cosa petrocione jengo mamma mia c'ha un paglia il suo classico gol con la punta il vantaggio dei gl carognari rimonta completata luca ciampaccio come se la testa del padre si fosse impossessata di lui petrocione per riscattarsi palo ancora volevo dire un po come se il pallone avessi impattato la mamma mia jengo poi salernitano rientro ciampaglia doppietta di luca ciampaglia 3 a 1 vedi g e le carognari e sena finisce qui il primo tempo 3 a 1 vedi g e le carognari vediamo questa ripresa occhio a cercillo bernicchi la risposta chissà se lo bevo troppo mentre mezzo al di mare cercello palla fuori petrocione 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 in mezzo a 2 jengo poi cardone cardone con destro jengo la para cardone tira sempre petrocione con il destro 8 a ciampaglia prova ad andare c'è il fratello a sinistra viene servito ciampaglia esce jengo ciampaglia jengo salernitano salernitano cardone palla che sibile termina fuori petrocione poi jengo si lascia ingolosire jengo rientra se ne va ancora jengo azione personale jengo petrocione si accentra petrocione li salta a tutti anticipato da di bonito di bonito che tira palla fuori petrocione si gira e finisce qui con la vittoria dei gl carognari copri il campo questa bella vittoria 3 a 1 alle soldi dei gl carognari in che gara è stata una gara abbastanza semplice gli avversari si sono impegnati però tecnicamente non ero eccelsi dunque la squadra di mio fratello io l'ho vinta la serena mi fa piacere tagli una mano quando posso un obiettivo un obiettivo per questa squadra che è partita a razzo vado a vincere sicuramente va bene bravi ragazzi bocca all'uco hai due donne è delustato una bella lì